Presidente, che cosa avete riscontrato nell'accordo siglato? Noi abbiamo riscontrato un controsenso nella scelta del sito su cui costruire l'ospedale e abbiamo soprattutto fatto presente che l'accordo firmato non prevede la cardiologia. Il reparto di cardiologia praticamente nel nuovo ospedale verrà completamente eliminato. Questi sono i due punti che mettiamo in evidenza. Dunque siete preoccupati per questo? Certo, l'associazione Fano Cuore è nata proprio per avere un reparto di cardiologia a Fano. Quindi adesso dopo 20 anni vediamo un nuovo accordo con l'eliminazione del reparto e noi siamo preoccupati perché l'accordo praticamente parla di una struttura di pronto soccorso o stazione di emergenza, un ipotes, i reparti chirurgia, medicina, ortopedia, terapia intensiva, poi medicina e chirurgia d'urgenza, ma non si parla di cardiologia. Quindi in caso di necessità dove si va? Direttamente a Pesero? Che cosa ne pensate invece della clinica privata a Fano? Non abbiamo nessun pregiudizio nei confronti della clinica privata. Noi non siamo d'accordo con l'ubicazione dell'ospedale a Muraglia. Muraglia è un sito di difficile raggiungimento da Fano, tant'è vero che si prevede di costruire una viabilità adeguata.